stiamo senza paparazzo guarda quello là dove si è piazzato il live numero uno assoluto top che top che più top non c'è paparazzo brutto è stupendo è stupendo la foto con il barrile è massimo e questo è il contrapunto questo è il massimo i veri miti questo se si mette a parlare questo racconta una vita stupendo stupendo veramente strepitoso Silvia Escort mi hanno preso Silvia Escort mi hanno gabbata Serami vada Serami vada i mutui fate la voltura volturi mutui anche sei volturato i mutui ho fatto affare secondo te sto male secondo me non è andato così male 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 ma ma mia sono fana eh grazie 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 grazie